e per vederla diciamo su un modellino io vi posso muorre in questo modellino e vedete presente adesso che è lo sketch che è disegnato sulla lavagna vedete comprimo l'indice va sul nero queste che sono tese l'indice la col bianco sul bianco quindi io posso scaricare in diversi modi e voi riconoscete sempre le aste come puntoni e come tiranti noi la carichiamo con queste due forze secondo questo schema ogni asta è provvista di una molla lineare e ci sono degli indicatori che indicano di quanto l'asta si allunga quando è tesa o si accorcia quando è compressa ha dei cavi di pre compressione in trazione si infila infilano in sede i cavi nelle guide ci sono i due ancoraggi e a questo punto abbiamo ottenuto una trave di precompresso che si regge da sola come vedete ed è in grado anche di reggere del peso adesso il cambianino toglie il pesettino ok ecco io adesso qui incastro questa trave usando questo oggettino questa vite va tirata bene avrò un asse neutro che è esterno questa volta passa da qualche parte qui abbiamo compressione su tutta la sezione che è più bassa in questo punto e cresce mano a mano che mi allontano e arrivo al punto qua in fondo il centro di taglio non è da quella parte la rispetto al baricentro perché si carico la la torsione aumenta bene il centro di taglio è un punto esterno alla sezione che è messo qui in questo caso e se io carico nel centro di taglio vediamo che la trave ha solo una pressione non ha la torsione questo materiale che produce energia il carico critico si sviluppa con una dipendente da un suele quadro quindi qui ci vogliono 35 newton e qui ci vuole un newton e mezzo quello che cambia semplicemente la lunghezza che però l'equazione ci dice che va come è l'inverso dell'unionezza quadratica per la quale l'asta è instabile e quindi c'è uno scatto del sistema a una configurazione di equilibrio non del piacente questa struttura come vedete ha un carico critico in razione è lo stato vedendo questa è l'inferività di flutter per favore schiacci con l'inferività di forno questo è un'inferività di forno